La nazionale italiana e quella rumena si contendono un calciatore del Milan Primavera, ha delle qualità immense, tecniche e fisiche. La sua storia è questa. Andrei Kubis ha 19 anni, è nato nel 2003 e gioca nella Primavera del Milan. È il capitano della squadra rossonera, punto fermo di Ignazio Abate. Difensore centrale, ma all'occorrenza anche tersino destro, è nato e cresciuto a Milano ed è uscito fuori dallo stesso settore giovanile di Sandro Tonali, la Lombardia 1. I suoi genitori sono entrambi rumeni, ma Andrei vive e gioca in Italia da quando è nato. Ha fatto tutta la trafila nella nazionale rumena. L'ultima sua esperienza, l'Europeo Under 19, dove ha perso proprio con l'Italia. Di recente Kubis ha contattato la federazione italiana ed ha iniziato le pratiche per diventare un calciatore azzurro. Kubis in Primavera è un vero e proprio fenomeno. Il suo sogno è quello di giocare per gli azzurri prossimamente. Forse potremo vederlo con l'Under 20 o l'Under 21.